rosi mantovani fiori dell'anima anno 2024 tecnica mista olio grafite garza su tela centimetri 40 per 40 l'immagine dell'infanzia contestualizzata in un ambiente crudo inospitale in qualche modo claustrofobico mette in luce una società senza futuro e sempre più spesso anestetizzata i problemi comuni cieca di fronte al dramma i soggetti assumono valore iconico non più infanzia simbolo ma la società provata dall'anelito di potersi proiettare verso il domani sono presenze assenze che abitano lo spazio pittorico appaiono di passaggio hanno la consistenza dei pensieri e la morbidezza della malinconia giovani donne intrappolate all'interno di paesaggi distopici periferie desolate la cui sola speranza è rappresentata dall'innocenza di queste figure il loro candore indica una possibilità di rinascita un riscatto che può compiessi restituendo importanza a valori ormai perduti come fiori estinti che rivivono all'alba di un nuovo giorno esse sono e rimangono dei meravigliosi fiori cresciuti nelle distese di asfalto descrivo la condizione umana odierna fatta di molta solitudine e di difficoltà di comunicazione situazione paradossale perché proprio quando il mondo civile si è globalizzato accorciando ogni distanza fisica e culturale unito in un'unica rete attraverso i mass media e di social networks qualcosa è stato smarrito o è andato perduto l'essenza dell'umanità e la possibilità di condividere in concreto la propria esistenza si vive circondati dal caos del mondo ma si finisce per essere rinchiusi come in una gabbia nella prigionia di un io che non trova modo di vivere come noi il mito del progresso e la nuova religione del lusso e del divertimento lasciano dunque il campo al senso di una desolata e malinconica solitudine è dentro di noi intorno a noi il senso opprimente quale terrifico fiore del mal di vivere che va guardato negli occhi al fine di comprenderlo i protagonisti sono ritratti completamente immersi nei loro pensieri dimenticando ciò che gli accade attorno sullo sfondo periferie desolate o rumorose sudice o abbandonate dove si accende la bellezza dei loro sguardi occhi di chi non demorde di chi combatte e forse vincerà è la possanza della resilienza